Sono un tifoso, sono un tifoso Ah se sei un tifoso per entrare pure di qua che puoi prendere le botte tranquilli C'è Youtube intasata di tanta gente che ha fatto video su Youtube del tipo Festeggio lo scudetto del Napoli Ma io ragazzi voglio festeggiare lo scudetto del Napoli con la maglia della Juventus Ed eccomi qua ragazzi siamo pronti per andare a Napoli Ci troviamo in questo momento nel porto di Palermo ma con la maglia della Juventus Ovviamente è taroccata ragazzi perché io non posso spendere 100 euro per una maglietta Questa maglietta mi è costata 30 euro con il mio nome personalizzato Ci vediamo a Napoli Ragazzi siamo pronti per andare a Napoli Ora ragazzi mi siedo bello tranquillo e aspetto che il sole sorge per diventare napoletano Salutiamo la nostra amata Palermo Ci vediamo fra tre giorni Sperando che non mi ammazzano Che sono bello ragazzi che sono bello Posso andare a fare il fotomodello E finalmente ragazzi siamo arrivati a Napoli Adesso ragazzi l'unica cosa che devo fare è non farmi picchiare perché quello che sto per fare credo che in pochi faranno Perché mi prenderanno per pazzo Per mo*****e E per tant'altro ragazzi Ok ragazzi siamo pronti per uscire da questo strano B&B 1 2 3 Buongiorno Salve signora Come stai? Bene bene Lei come sta signora? Una bellezza Da dove vieni? Io vengo da Torino signora Lei? Io a Napoli Ma perché mi stai intervistata? Chi lo deve far vedere questo? Questo spot andrà alla media No amore No 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 Allora niente No amore Ok 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 disattiviamo tutto Disattiviamo tutto In giro per Napoli con la maglia della Juventus Inquadra là cameramen Inquadra là Inquadra là Tutti gli spot del Napoli Non ho paura Forza Juventus Secondo me lui non esce vivo Io in questo momento sto rischiando la vita Sto rischiando la vita Sto rischiando la vita Sto rischiando la vita raga Sto rischiando la vita raga Ancora nessuno praticamente ci ha fermato Però credo che qualcuno oggi ci scannerà La gente praticamente mi sta guardando malissimo C'è una persona che cammina in giro A Napoli Che oggi è la festa dello scudetto O del Napoli C'è la gente dice Ma questo è pazzo Ma questo è fuori di testa Forza Juve Juve Sto vedendo un grande amore Bianco che abbraccia In nero Un coro che si alza davvero Juve Juve per sempre sarà Scusa Mi urleresti forza Juventus No Now You speak Italian You speak English No La mia moglie per favore Ok Vedendo che la situazione era così tranquilla Ho deciso di cambiare posto E di andare Verso Lo stadio Ragazzi Ci troviamo praticamente Allo stadio Maradona Con la maglietta della Juventus E adesso Andremo a chiedere Praticamente A questa bancarella Se praticamente Vendono delle magliette Della Juventus Scusi Ma vendete per caso Una maglietta Della Juventus Ma che sta facendo E che sto facendo Sei un ultra Se o sei un tifoso Della Juventus Sono un tifoso Sono un tifoso Ah se sei un tifoso Mentre la vuole di qua Che puoi prendere le botte Tranquillamente No 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 Però non puoi camminare Con questa maglia Ma perché non posso Scusa Fuori allo Stato San Paolo Il sudetto del Napoli Vuole camminare Juve Stora di un grande amore Piccola Viaggo che abbraccia Il nero Il coro che si alza davvero Vedendo che ancora le botte Non le avevo prese Avevo deciso di continuare ancora A girare per Napoli Con la maglia Della Juventus Stai giocando Sto giocando Sto ricevendo insulti Da tutte le parti Andò tutto bene Fin quando ragazzi Si avvicinò Un gruppetto Di ragazzi E purtroppo Mi hanno costretto A togliere la maglietta Della Juventus Perché se io Non l'avessi tolta A quest'ora Favarigna Non c'era più E quindi ragazzi Vi mostrerò La parte finale Perché purtroppo Mi hanno anche costretto A cancellare la clip Quindi vi mostrerò La parte finale Dove tolgo la maglietta La mia missione Non era finita qui Perché io Volevo festeggiare Lo scudetto Del Napoli Insieme ai napoletani E allora Ho deciso Di indossare Una bellissima maglia Con una bellissima Dedica Rivolta Proprio a Napoli Che dopo 33 anni È riuscita A vincere Questo scudetto Fantastico E ho festeggiato Insieme a loro Tutta la notte Ragazzi Tutta la notte Infatti Come potete Ben vedere Ci sono giochi D'artificio La piazza Era praticamente Piena Di tifosi Napoletani Sono tornato a casa Ma prima di raccontarvi Ma prima di darvi La buona notte E di dare anche La fine di questo video Vi devo raccontare Un fatto Praticamente Raga Quando ho tolto La maglia Della Juventus E mi sono messa Quella del Palermo Molta gente Ha incominciato A fotografare Perché in questa maglietta Praticamente C'era scritto Palermo è come Napoli E dietro C'era scritto Campioni d'Italia Praticamente Raga Si avvicina Un napoletano E mi ha costretto A comprare Una sciarpa Voi direte Ma quale sciarpa Questa sciarpa Si mostrava Esattamente così Infatti Raga Tu appena vedi Una sciarpa così Pensi Oddio È quella del Napoli La compro La apro E praticamente Vedo Che questa sciarpa Non è del Napoli Perché è una sciarpa Vecchia È una sciarpa Che praticamente Riguarda I quarti di finale Di Champions League Che non c'entrava Nulla Con quella sciarpa Che lui mi doveva dare Perché quella sciarpa Che lui mi doveva dare Era la sciarpa Dello scudetto Del Napoli Che cazzo C'entra in Milan Raga Che cazzo C'entra in Milan Ma tutto ciò Raga Non cambia La mia opinione Perché i napoletani Sono delle bravissime persone Sono fiero Dei tifosi napoletani Che hanno festeggiato Lo scudetto Ma non sono fiero Di queste persone Che si mettono A truffare A truffare Le povere persone Che cercano Di comprare Sciarpe Maglie Ma che alla fine Vengono truffate Perché non sono Quelle Che dicono loro Detto ciò ragazzi Vi auguro una buonanotte Cia 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 La mia opinione è una buonanotte